Cari ragazzi ben ritrovati, ho preparato per voi una nuova lezione sulla crisi dell'impero romano. Questa fu una crisi non solo politica ma anche economica e sociale. Cominciamo subito a vedere com'era l'impero romano circa due secoli prima della sua fine. Nel III secolo d.C. l'impero romano era vastissimo. Lo riconoscete in questa cartina? È rappresentato in rosa. Come potete vedere esso si estendeva dall'oceano atlantico al golfo persico toccando ben tre continenti Europa, Asia e Africa. Difendere le sue frontiere chiamate l'imes cioè confine era un'impresa ardua per l'esercito romano. Il limes era infatti minacciato da popolazioni assai bellicose. A nord-est lungo i fiumi Reno e Danubio c'erano i germani detti barbari e a sud-est in Medio Oriente i persiani. Per governare un impero così grande e fermare la minaccia di tutti questi nemici sarebbe servito un governo centrale forte e stabile. Invece a Roma tra il 235 e il 284 il potere politico era sempre più debole. In questo periodo si succedettero più di 30 imperatori, quasi tutti i comandanti militari scelti dai loro eserciti e sempre in conflitto tra loro. Anche l'economia entrò in crisi per varie ragioni. Innanzitutto servivano molti soldi per mantenere l'esercito che difendeva l'impero dai barbari. Questo determinò l'imposizione di nuove tasse e l'impoverimento dei sudditi dell'impero. Poi le guerre contro Germani e Persiani resero città e strade meno sicure causando la diminuzione dei commerci che divennero pericolosi e difficoltosi, ma causando anche un calo della produzione artigianale e soprattutto di quella agricola. Nei campi devastati si coltivava solo ciò che era necessario alla sopravvivenza. Tutto ciò determinò la diminuzione di disponibilità dei beni di consumo, i cui prezzi, come si può ben immaginare, aumentarono vertiginosamente. Ci furono lunghi periodi di carestie, seguiti da epidemie di peste e baiolo, che determinarono una diminuzione della popolazione, soprattutto nelle città. La crisi dei commerci e la scarsità di merci portarono all'inflazione, cioè alla perdita di valore della moneta e al ritorno al baratto. Furono i centri urbani, principale obiettivo delle incursioni dei barbari, a soffrire maggiormente della crisi, anche perché gli abitanti delle città, a differenza di quelli delle campagne, non producevano direttamente generi alimentari e quindi non erano autosufficienti. Di conseguenza le città persero importanza. I latifondisti si trasferirono nelle loro bille fortificate e tutte le attività si spostarono in campagna. Tutta la società dell'impero ne risentì, in particolare i contadini. La crisi sociale fu veramente grande. La crisi sociale e politica dell'impero romano fu aggravata da un altro fattore, questa volta religioso, l'affermazione del cristianesimo. Gli abitanti dell'impero romano erano politeisti, ma le difficoltà dell'epoca di crisi in cui vivevano li avevano portati a cercare conforto e speranza in nuovi culti. La religione romana, infatti, non riusciva più a dare risposte alle incertezze e le paure di un'epoca difficile. Così si diffusero nell'impero nuove religioni provenienti dall'Oriente, tra cui il culto del dio Mitra, di origine indiana. Ma fu dal Medio Oriente, nel primo secolo dopo Cristo, che arrivò una religione nuova, il cristianesimo, che riuscì a mettere in crisi l'impero romano, diffondendosi rapidamente. Gesù, un ebreo nato a Betlemme durante l'impero di Augusto, predicava l'amore, la fratellanza e l'uguaglianza. Gesù annunciava la venuta del regno di Dio e la salvezza oltre la morte per tutti, anche per gli umini, gli emarginati e i perseguitati. Si trattava di un messaggio rivoluzionario. I cristiani, infatti, predicavano l'uguaglianza tra tutti gli uomini e rifiutavano di adorare l'imperatore come un dio e di fare sacrifici in suo nome. Gesù fu accusato di essere un bestemmiatore e venne crocifisso. Dopo la sua morte, gli apostoli portarono il suo messaggio in Asia minore, nell'Africa romana e poi in tutta la penisola italica, compresa Roma. La storia della parola di Gesù fu diffusa anche tramite i Vangeli, che insieme agli atti degli apostoli e all'Apocalisse, costituiscono il Nuovo Testamento. A portare la parola di Gesù tra i non ebrei, chiamati gentili, fu Paolo di Tarso, un ebreo che prima aveva perseguitato i cristiani, ma che poi si era convertito. Paolo visitò molte comunità sulle coste del Mediterraneo, insegnando il Vangelo e distruendo i cristiani sulle corrette regole di comportamento. I primi a convertirsi furono i più poveri, ma in seguito il cristianesimo si diffuse anche tra i ceti più elevati della società romana. Le autorità di Roma cominciarono presto a temere questa nuova religione, proprio per la sua ampia diffusione tra gli schiavi e le classi più umili, che vedevano nell'uguaglianza predicata da Gesù una possibilità di riscatto sociale. Inoltre c'era la questione del divieto di adorare l'imperatore come una divinità, poiché i cristiani ammettevano un unico Dio. Per questi motivi i cristiani furono perseguitati e costretti a praticare la loro fede di nascosto. All'interno delle comunità cristiane era praticata la solidarietà e veniva messo tutto in comune. Questo contribuì ad attirare nuovi fedeli. A capo delle singole comunità c'erano i presbiteri o sacerdoti. Più comunità erano controllate dai vescovi che vigilavano sui culti e sulla predicazione affiancati dai diaconi. Pietro, l'apostolo incaricato da Gesù di guidare la chiesa cristiana, fondò una comunità a Roma dove più tardi giunse anche Paolo. Questa comunità divenne la più importante di tutta la cristianità e al suo vescovo fu attribuito il titolo di Papa, cioè guida della chiesa cattolica, che significa universale. Fu in Palestina che iniziarono le prime persecuzioni contro i cristiani già nel primo secolo dopo Cristo. Essi susseguirono per circa due secoli a fasi alterne. L'imperatore Decio nel 249 impose il culto dell'imperatore a tutti i cittadini dell'impero e Diocleziano alla fine del terzo secolo condannò a morte tutti i cristiani che si rifiutavano di adorarlo. Quelli che scelsero di rimanere fedeli a Gesù furono duramente perseguitati e, se catturati, vennero messi a morte con pene atroci e chiamati martiri, che significa testimoni. Ora vi parlerò dell'impero romano cristiano. Diocleziano, divenuto imperatore nel 284, grazie ad una serie di importanti riforme politiche ed economiche, salvò l'impero da una precoce rovina. Egli divise l'impero in quattro parti, come si può vedere da questa cartina, due in oriente e due in occidente, governate da due cesari e due augusti. Questo sistema di governo si chiamò tetrarchia, cioè governo di quattro, ed era stato studiato per evitare problemi di successione al trono. I due augusti, infatti, sceglievano due cesari a cui affidare parte dei loro territori. Dopo vent'anni i cesari sarebbero diventati augusti e il ciclo sarebbe ricominciato. Diocleziano potenziò anche l'esercito, dividendolo in truppe di frontiera, che avevano il compito di controllare i confini, e truppe di combattimento, in grado di intervenire velocemente in caso di attacco. Infine decise che tutte le attività lavorative diventassero ereditarie, passando di padre in figlio. Questo aumentò le disuguaglianze sociali. Il sistema della tetrarchia non funzionò e, nel 305, quando Diocleziano abdicò, cioè rinunciò al potere, divenne unico imperatore Costantino, che aveva prevalso contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, vicino Roma, nel 312, e poi contro Licinio, l'Augusto d'Oriente, nella battaglia di Adrianopoli nel 324. I cristiani continuavano ad aumentare e Costantino aveva capito che, per avere il consenso di tutta la popolazione, era indispensabile trovare un accordo con loro. Per questo, nel 313, emanò l'editto di Milano, con cui concesse ai cristiani libertà di culto, mettendo così fine alle persecuzioni anticristiane. Egli stesso si fece battezzare e permisi alle comunità cristiane di ingrandirsi e costruire nuove chiese, dette inoltre ai vescovi poteri simili a quelli dei funzionari imperiali, concesse l'esenzione delle tasse al clero e arricchì la chiesa di proprietà e terreni. Costantino usò la fede nel dio dei cristiani per rafforzare l'impero, per questo aiutò la chiesa a combattere l'eresia. Nel 325 convocò il concilio di Nicea, un'assemblea di vescovi, che condannò l'arianesimo, una dottrina che negava la divinità di Gesù e che proprio per questa sua semplicità era molto seguita dalle classi più umili e dai germani. Nel 330 Costantino spostò la capitale da Roma a Bisanzio, che chiamò Costantinopoli, la nuova capitale della cristianità, ben difesa e in una posizione strategica per i commerci tra Europa e Asia. Costantino morì nel 337. Dopo la sua morte Roma attraversò nuovamente un periodo difficile fino all'elezione di Teodosio nel 379. Sul piano politico Teodosio riuscì a fermare le invasioni dei germani sul confine orientale, trovando con loro un accordo. Sul piano religioso Teodosio dichiarò il cristianesimo unica religione di stato, con l'editto di Tessalonica del 380, vietando tutte le altre religioni. Dopo la sua morte nel 394 l'impero fu diviso in due. L'impero d'Occidente andò a suo figlio Onorio, che stabilì la capitale a Ravenna. L'impero d'Oriente, con capitale Costantinopoli, andò a suo figlio Arcadio. Da allora i due imperi non si riunificarono mai più e le invasioni dei barbari si intensificarono così tanto da portare, a distanza di pochi decenni, alla caduta definitiva dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò nella prossima video-lezione. Per oggi è tutto, ciao ciao dalla vostra prof.